Ricordatelo, manda subito un SMS al 45506, allora sei del FAI come sono del FAI io, puoi salvare quello che hai dentro, puoi salvare quello che c'è di importante in Italia, la nostra cultura, ricordati, fai il nodo al fazzoletto e manda l'SMS al 45506, subito. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si occupa seriamente dell'Italia da 35 anni, salvaguardandone l'arte, il paesaggio, la cultura. Dobbiamo sostenerlo, in che modo? Inviando un semplice SMS da 2 euro al 45506. Sosteniamo un patrimonio che non è soltanto nostro ma che apparterrà alle nuove generazioni. Il FAI ha bisogno di te, ma anche tu hai bisogno del FAI. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si occupa seriamente dell'Italia da 35 anni, salvaguardando il paesaggio, l'arte, la cultura del nostro paese. Dobbiamo sostenerlo, in che modo? Inviando un semplice SMS da 2 euro al 45506. Salviamo un patrimonio che non è soltanto nostro ma che apparterrà alle nuove generazioni. Il FAI ha bisogno di te, ma anche tu hai bisogno del FAI. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si occupa dell'Italia da 35 anni, salvaguardando l'arte, il paesaggio, la cultura. Lo dobbiamo sostenere in che modo? Inviando un SMS da 2 euro al 45506 oppure 2, 5, 10 euro da rete fissa. D'accordo? Salviamo i tesori che abbiamo nel nostro paese, facciamolo anche per le future generazioni. Guarda, facciamoci anche un bel nodo al fazzoletto, così ce lo ricordiamo. D'accordo? Il FAI ha bisogno di te, ma anche tu hai bisogno del FAI. L'Italia ha bisogno di aiuto e tu che fai? Cosa fai? Che fai? Te lo dico io, affidati al FAI, Fondo Ambiente Italiano che da 35 anni si occupa seriamente dell'Italia, salvaguardando il paesaggio, l'arte, la cultura. Invia un SMS al 45506 di 2 euro e farai una bella cosa. Aiuta il FAI, che poi il FAI aiuta te, ricordatelo. Fai addirittura, te lo dico io, un nodo al fazzoletto, così te lo ricordi. Va bene? Grazie. Grazie. Grazie.